Tutti confatti comuni unici Vabbè lasciamo così dai Ah c'è che la... Ah Cambiamo lei Com'è il volume? Devo passare L'occhi azzurli facciamo Sono uomini Allora facciamo soli Sembra una pubblicità Ah il mio bambino ha fame Eheh Eheh No Non mi lasci più iniziare che il padre No Vai in cucina appena... Ha... Ah mi dice dove andare ... Si concorre il personaggio? No E come si fa a pire? Ah, colai Prendi il latte Ah, chi è figo No, putti Ah, no, ok, non so che Vabbè, non è che ci sono in ponte Ah, portare a bambino il latte Ok Ah, oggi è vacanza Prendi il tuo bambino e è andato al parco Ok Eh, fa a dire Ti piace? Il franco Ma è così così Vediamo come si rivolga la situation Ah, trovi il bambino Non molto Ah, due bambini sono Ah, maschio e femmina Ok Oh, vado in mezzo a stare Tiratemi sotto Eh, non c'è nessuno Guarda che cammina a voi Va veloce poi Questa signora qua Ma sembra che stava volando Cioè, non appoggia per terra le ruote Nella carrozzina No Eh, poi se non restano che si alzano in più viso Voi sono arrivati al parco Comperta Tua mamma La mamma Cioè, la mamma Cioè, la mamma Cammina nel parco Per poi l'ha spaventata la mamma Ok, dopo vabbè Un gatto Miau Adesso finisce la giornata di camminata Ok Passi durissimo il sonoro Sì, si alza Si abbassa Come vuole lui Ma facciamo ancora due minuti Quindi a trovare il dagno Ah là Ma che schifo Adesso Ah Lo metto nell'albero Non è che si alza il sonoro Ah no, non è were ok Ah no, non è reocché bambino sospettoso adesso c'è la bambina è il tempo di andare a casa prendi i bambini e ma cosa bello sto bug guardalo ah no voglio vedere fino alla fine stai vedendo panko non dipende si è buggato di butto 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 e adesso si è buggato non si ferma più vabbè basta aspetta aspetta ah si è calmato ho fatto troppo di nere però ancora ah quando si fa addosso il palo fa così bugdello ah perchè salta riesco a fermarla oddio vedi bambino ma va va a volte da sola va c'ho facendo niente vabbè basta ah che ride che conferma